Nella giornata di ieri, durante le nevicate che hanno interessato un po' tutta la provincia, un bambino di 12 anni affetto da problemi di salute ha trovato il suo angelo custode in un carabiniere. È accaduto a Pulsano dove un brigadiere del comando provinciale di Taranto, libero dal servizio, transitando con la sua autovettura nelle prime ore del mattino mentre era in corso una copiosa nevicata e la temperatura si era fatta particolarmente rigida, ha notato sul ciglio un bambino che camminava da solo, infredolito e in stato confusionale, con indosso soltanto il pigiama. Il carabiniere è sceso dalla macchina e si è avvicinato con aria rassicurante verso il bambino. Dopo essere riuscito a sapere dallo stesso le sue generalità, il brigadiere, coprendo il piccolo con il suo giaccone, lo ha fatto salire sulla sua autovettura privata e quindi si è diretto immediatamente alla stazione Carabinieri di Pulsano. Lì, coccolato anche dagli altri carabinieri, il bambino è stato rifocillato mentre era già stato attivato personale del 118 per constatare lo stato di salute del minore. Si è quindi provveduto a rintracciare i genitori dello stesso, i quali, ignari di quello che era successo dato l'orario e l'allontanamento del bambino avvenuto di nascosto, sono giunti immediatamente in caserma e hanno potuto riabbracciare il proprio figlio e quindi ringraziare, particolarmente commossi, tutti i militari della caserma e il carabiniere soccorritore per aver scongiurato più gravi pericoli.